a rovigo finalmente è tornato al cinema le piacerebbe avere anche una sala in centro e perché la sala in centro sicuramente un po per la storicità diciamo poi anche per far vivere il centro insomma che la frequenterebbe io la frequenterei sicuramente la frequentavo quando c'era ero giovane la frequentavo insomma per cui sarebbe una bella cosa prima di tutto perché abitando a rovigo avrei la possibilità di non muovere la macchina quindi di portarmi in centro e vedere il film e visto che a rovigo una volta c'era un cinema ultimamente non c'è più un cinema quindi sarebbe un motivo in più perché la gente rimanesse a rovigo gente venisse a rovigo e ci sarebbe più movimento anche per il corso perché onestamente a rovigo ultimamente proprio c'è pochissimo molto poco io abito a rovigo posso dire che c'è veramente poco assolutamente sì perché è comodo il cinema è una risorsa che noi dobbiamo avere e poi è uno stacco un po del quotidiano quindi invece di prendere la macchina a piedi io abito anche in piazza qui vicino recarsi al cinema secondo me è un dono prezioso proprio un lusso certamente confermo una sala in centro magari la desideriamo tutti la frequenterebbe molto certo senza dubbio sì sì è logico anche perché non tanta gente può prendere andare specie le persone anziane che che avrebbero bisogno di una di una sala qua comodo e anche dei ragazzi che non hanno la patente ci sarebbe bisogno sì sarebbe molto comoda quello sicuramente la frequenteresti molto molto magari no però ci andrei è una cosa che manca da anni secondo me sarebbe una cosa carina secondo te sarebbe molto frequentata anche da persone giovani sì essendo in centro è comodo e quindi sì secondo me sì una sala in centro sì perché insomma almeno vivacizza un pochino Rovigo che sta morendo Rovigo qui e io non sono un'assidua cioè non vado molto spesso al cinema però una sala sì almeno una insomma invece di andare in un centro commerciale penso che sia l'ideale allora beh in centro volentieri perché bisognerebbe anche sistemare un attimino i parcheggi perché insomma si è un po scomodi qua in centro più facile lì verso il centro commerciale la fattoria però insomma ripristinare un cinema anche in centro da un po anche la qualità del della di Rovigo insomma della città grazie mille a te